La 5171 in versione web, grazie a tutti per parlare di questo primo tema in atto di sottotitoli, grande. Ora abbiamo ricordato le persone Ferrari che lavorano nell'ombra dietro ai grandi successi fu vincendo Le Mans ma mi piangere anche dire che non abbiamo solo vinto Le Mans abbiamo vinto anche molte volte che abbiamo vinto a dire che si chiama Le Mans e si chiama Le Mans, si chiama Le Mans e si chiama Le Mans e si chiama Le Mans e si chiama Le Mans